Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. I concorrenti in nomination che si contenderanno un posto in finale sono Jessica Aileselassie e Gjukas Casella. Vediamo cosa ci dicono le statistiche. Vi ricordiamo che quest'anno sono state estremamente precise. La finale sarà il 14 marzo e che i concorrenti ancora in gara sono sei. Davide, Delia, Gjukas, Baru, Lulu e Jessica. In nomination abbiamo Gjukas e Jessica. Le statistiche alla domanda a chi vuoi in finale mostrano i seguenti risultati. Gjukas Casella ha totalizzato il 45% dei voti, mentre Jessica il 55%. Appare pertanto evidente che a salvarsi dovrebbe essere proprio la principessa Selassie. Voi tra i due vipponi, chi vorreste vedere in finale? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie a tutti.